Torna l'incubo degli incendi e sul Mona vara l'ordinanza. Il sindaco della città Gianfranco Di Piero ha stabilito che da oggi, fino al 30 settembre, è vietata l'accensione di fuochi con qualsiasi finalità, l'uso di apparecchiatura a fiamma libera, ma anche elettrici che producano faville, l'esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio, con l'esclusione dell'attività connesse allo svolgimento delle manifestazioni civili e religiose, tradizionalmente previste sul territorio comunale nel periodo estivo, in aree ad alto grado di urbanizzazione ed edificazione, nelle quali gli eventi sono suscettibili di accurato controllo da parte degli organizzatori, ai quali da attribuirsi l'onere nell'adozione di ogni misura preventiva a norma di legge. Vietato anche il getto di fiammiferi, sigari, sidarette in prossimità, in presenza di materiale vegetale, nonché il compimento di ogni altra attività dalla quale possono scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco, di incendio. Vietata sosta parcheggio di autovetture a contatto con l'erba secca, con altra disposizione sindaco di ramato specifica e misura per prevenire la caduta di alberi dalla linea ferroviaria.